Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. L'arma esotica di questa settimana sarà Affari Sporchi, un fucile automatico unico nel suo genere. A tutti gli effetti sarà una minigun con tutto ciò che comporterà. Più si spara, più la cadenza di fuoco aumenterà e più l'arma sarà precisa. Un'arma senza dubbio molto particolare che riesce a essere allo stesso tempo il migliore e il peggiore fucile automatico. Non ha una sua vera e propria applicazione, diciamo che sì anche Akalus ad esempio nell'ultimo step del ride fa i suoi danni, ma principalmente rimane un'arma for fun. Non è quell'arma come dire il gallor, il simulatore dormiente, il senza pietà rimanendo a tema Destiny 2 che ti fa dire la voglio, la devo equipaggiare e personalmente non penso valga lo slot esotico. Comunque un'arma for fun se volete divertirvi un po' o se volete variare un po' va più che bene. Per il cacciatore venderà lampone fortunato, torace esotico che ho recensito settimana scorsa e il suo perché intrinseco sarà matrice probabilistica, aumenta la capacità di concatenazione di granata settante ed ha la possibilità di ricaricarla ogni volta che infligge danni. Un pezzo d'armatura che si riesce a sfruttare anche nel PvE fa spammare molto di più le granate settanti, ma soprattutto nel PvP sa essere davvero molto fastidioso. E in quelle attività, quelle del crogiolo, personalmente lo consiglierei e un buon pezzo d'armatura ad abbinare alla sottoclasse del fulminatore. Per la classe del titano venderà i sintoccipiti, dei guanti esotici il cui effetto sarà di aumentare la gittata del corpo corpo e se circondati anche il danno, un pezzo d'armatura molto particolare che si darà un vantaggio perlomeno nel PvP, nel PvE diciamo che questi effetti saranno tutti secondari, ma che nel complesso secondo me non vale uno slot esotico, personalmente preferirei utilizzare altri pezzi d'armatura, quindi sinceramente ve ne sconsiglierei l'acquisto. E infine per la classe dello stregone vendrà il teschio del terribile Amkara, che in questo Destiny 2 è il perk intrinseco, vera grandezza, sarà un misto tra il teschio del terribile Amkara e la mente d'ossidiana in Destiny 1, infatti leggiamo, fornisce resistenza aggiuntiva ai danni durante Bomba Nova e le uccisioni con Bomba Nova forniscono energia alla super. Come pezzo d'armatura lo considero molto limitato, sicuramente meglio di quello in Destiny 1, però tutto sommato è limitato come pezzo d'armatura, funzionerà soltanto nell'istante in cui si utilizza Bomba Nova, quindi una volta partita, due se proprio vi va bene e per questo motivo generalmente preferirei affedarmi ad altri pezzi d'armatura. Forse forse la utilizzerei giusto nel PVE, dove comunque il ripristinare parte della super può essere di aiuto, in linea di massima però ve ne sconsiglierei l'acquisto. Dunque ragazzi, per quanto riguarda l'oxure di questa settimana è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!